Sinceramente mi dispiace tanto che tu venga a saperlo così, ma sì, la globalizzazione e il neoliberismo erano le visioni che si contrapponevano alla visione comunista del mondo, quando il mondo era diviso in due blocchi contrapposti. È una visione che era sposata dalla sinistra, che era quella comunista, è una visione che era sposata dalla destra, che era quella neoliberista e che ha dato vita poi alla globalizzazione, che guarda caso ha preso forza e si è liberata completamente dopo la caduta del regime comunista. Mi fa meraviglia che gli elettori di destra non sappiano che stiamo vivendo in un mondo di destra e che le migrazioni sono causa di questo sistema disumano che impoverisce, distrugge, che ha creato la crisi climatica e che sta letteralmente facendo muovere milioni di persone in nome del profitto. Questo è un limite grosso che ha tutto l'elettorato di destra, non capire e non sapere che il loro principale nemico sono loro stessi e questa è una riflessione che non si può rimandare. Ditemi che cosa ne pensate nei commenti e seguitemi per creare una voce critica nella politica italiana. Sottolineo per i più duri di comprendonio, come si dice in Garfagnana, che non sono comunista, ma sto facendo una mera analisi di quello che è successo. Io sono un ecologista, sono convinto che serva un'economia mista dove le entità pubbliche, i governi, le amministrazioni siano coordinatori affinché l'economia non vada contro il bene e l'interesse delle comunità. Questo è un aspetto fondamentale perché dobbiamo tornare a governare l'economia e non a far sì che l'economia governi la politica cosa che invece è successa con questo sistema economico.